Perchè venire al camp della storia azzurra? Venire perché è un camp buico nel suo genere, una location perfetta per fare un ritiro, un ritiro tecnico e fisico su se stessi e anche spirituale, perché siamo in montagna, abbiamo la temperatura perfetta, abbiamo il campo direttamente di hotel, abbiamo la palestra, abbiamo il campo di fronte atletica di fronte all'atel, quindi abbiamo tutto lì per lavorare al 100% sul miglioramento individuale del giocatore, lontano da partite, lontano da scadenze, lì conta solo il lavoro su voi stessi. Quindi stare in una location di questo tipo è necessario, perché da lavorare al 100%. Ciao! 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 Il stadio a Caporena è un'ottima opportunità per qualsiasi ragazzo per poter migliorare le proprie noti tecniche e fisiche, avendo a disposizione un intero staff anche internazionale e la possibilità di confrontarsi con un sacco di ragazzi provenienti da ogni parte del mondo. Alla prossima! Grazie a tutti